ciao a tutti ragazzi e bentornati su nerclub io sono gela come molti di voi già sapranno io sono stra appassionato di tecnologia e tutto quello che ci gira intorno però spesso e volentieri queste tecnologie sono inarrivabili soprattutto per quanto riguarda il nostro portafoglio però a volte è bello anche tornare alle origini anche se con qualcosa di moderno ed è il caso del gadget se così si può chiamare che vi sto per presentare ovvero il game buino il game buino fa parte di uno di quei progetti di successo finanziati dal crowdfunding e nello specifico sulla piattaforma indiegogo il risultato è stato eclatante perché sono stati raccolti 33 mila euro contro la richiesta iniziale del creatore di soli 3500 dal nome credo che abbiate già capito su che cosa è basato questo prodotto ovvero sull'ormai famosissimo arduino il game buino è grande come una carta di credito e monta un processore 16 megahertz che praticamente è lo stesso dell'arduino one inoltre ha un monitor 84 per 48 pixel in bianco e nero retro illuminato che per capirci è lo stesso monitor che avevamo sul nostro famosissimo e amatissimo nokia 3310 inoltre trovate speaker a quattro canali un attacco micro usb per poter ricaricare il vostro game buino ovviamente anche per passare informazioni e uno slot micro sd con il quale potrete ovviamente caricare i vostri giochi sia scaricati dalla rete che creati proprio da voi ed è questa la particolarità di questo progetto infatti potrete giocare a qualsiasi gioco preinstallato sul sistema appena l'acquistate oppure scaricare tutti i giochi che volete dal sito ma potrete anche crearne di vostri e non soltanto giochi ma anche applicazioni tutto questo grazie al software open source di arduino che potete trovare sia per windows mac che linux e una serie di librerie create proprio dallo sviluppatore di game buino ovviamente dovrete avere le basi o essere almeno a conoscenza del cpp codice di programmazione con il quale veramente potrete dare libero sfogo alla vostra creatività vi lascio comunque in descrizione tutti i link utili sia per acquistare game buino che iniziare a lavorarci come detto prima game buino non è soltanto per i giochi ma può essere utilizzato anche come controller esterno o qualsiasi altra funzione vogliate dargli per dei progetti più complessi e tutto questo grazie anche alle due porte 12c che sono compatibili con tutti i moduli 12c che potete trovare sul mercato potrete infatti comprare un semplice cavo che vi permette di collegare due o più game buino insieme fino a 128 e magari giocare in multiplayer coi vostri amici oppure un altro esempio potrebbe essere quello di installare un modulo wireless e comunicare con i dispositivi che avete in casa insomma l'abbiamo chiamato gadget ma in realtà è molto molto di più quando acquisterete game buino vi verrà fornita anche una micro sd da 128 mega con prestallati già diversi giochi tra i quali i classici come pong asteroids bomberman space invaders e tanti tanti altri ancora e credetemi è veramente semplice passare ore e ore a giocare con il game buino anche perché la batteria può durare fino a 24 ore continuate ma mi sono dimenticato di dirvi la cosa più importante infatti il game buino costa solo 35 euro ed è un prezzo veramente eccezionale per un prodotto che può fornirvi molto di più del gioco e molto di più di quello che avete visto in questo video potete acquistare lo starter kit direttamente dal sito di game buino potrebbe capitarvi di dover aspettare giorni o settimane per riceverlo perché la disponibilità in magazzino non è sempre elevata essendo comunque una piccola startup credo che comunque valga la pena possedere una di queste mini console credetemi creano veramente dipendenza spero che questo progetto vi sia piaciuto perché abbiamo intenzione di farvi vedere tante altre novità dal mondo della tecnologia soprattutto che siano comunque abbordabili anche perché nessuno di noi vuole spendere centinaia e centinaia di euro per un piccolo gadget vi ricordo di guardare in descrizione per avere tutti i link che vi servono per avere maggiori informazioni su game buino e ovviamente per poterlo ordinare per ora è tutto ragazzi non mi resta che salutarvi e ricordarvi di lasciare un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale noi ci vediamo con il prossimo video a presto